Secondo te per quanto tempo ancora ha intenzione di restare così? Fino a quando non ci convinciamo che è stato lui? Hai notato che non rivendica in nessun modo la responsabilità dell'attentato? È una mossa senza precedenti per loro. Va bene, mi ha convinto. È opera sua. Quando non hai le prove, non hai le prove. Mi dici perché hai mandato Essence da Sophia Dubois? Essence è una figura spettrale. Lui sa come indicare la via. Bella mossa. Tu volevi che la triade malefica andasse a sbattere e poi bruciasse, ma invece è toccata a me. Fortunatamente sono atterrato sui fiori. Un contrattempo, un contrattempo temporaneo è calcolato. La triade malefica andrà a sbattere ancora e sempre di più e tu tornerai esattamente dove eri. È tempo di tirare le somme, Eminenza. Mi dispiace, dovrei indirizzare le tue domande da un'altra parte. Io sono un floricoltore ormai. Pensa che io, ufficialmente almeno, sono un nullatenente. Eppure sono uno che gestisce una gran parte del mondo dalla mia camera d'albergo. E sono sicuro che tu faccia lo stesso da questa sera. Non gestisco un bel niente, Bauer. Io non faccio che dare consigli qua e là. Consigli molto necessari, a quanto sembrerebbe. La tua Sofia ha fatto arrivare a un giornale inglese delle foto di un giovanissimo Brennox. Tu lo sapevi che John era un patetico punk che se la faceva con degli sfigati come lui? Accidenti che scoop! Chissà dove ci condurrà. Brillante come mossa. Il mondo ha bisogno di provare un po' di tenerezza per il nostro attuale pontificio. No, il mondo ha solo bisogno di dimenticarsi dell'altro, che è il motivo per cui dobbiamo aiutare Giovanni Paolo III. È troppo debole. È poco reattivo. Ma cos'è che ti preoccupa esattamente? Cosa mi preoccupa esattamente? Tu non lo sai. Tu non lo sai.